Buonasera, buonasera e bentrovati. Un appuntamento a cui teniamo molto per tanti motivi. Intanto perché Don Dario Viganò, per noi sempre stato Don Dario, anche se poi nel frattempo diventato un monsignore e tante cariche di ogni tipo, è un amico che ha sempre creduto nelle sale della comunità come il Gabbiano. La nostra frequentazione risale ai tempi dell'Acec, l'Associazione Cattolica Esercenti Cinema ed è stata una tra le persone che più ha scommesso sulla capacità del cinema di parlare al cuore dell'uomo, senza confessionalismi, senza forzature e questo suo insegnamento ci è rimasto molto nel cuore e ha molto determinato anche l'identità della nostra sala. Quindi il grazie più spontaneo e sentito per questo trascorso. Poi gli incarichi così importanti e significativi, quelli lì ci hanno un po' così allontanato per motivazioni proprio pratiche, però l'intensità di una presenza significativa quale era tua l'abbiamo sempre avvertita. Dico brevemente chi sei, dirito questa cosa, proprio sinteticamente. È nato a Rio de Janeiro nel 1962, dopo gli studi in filosofia e teologia a Milano, nell'87 è stato ordinato sacerdote dal cardinale, allora arcivescovo di Milano, Carlo Maria Martini. È stato prefetto della segreteria per la comunicazione della Santa Sede dal 2015 al marzo scorso, direttore del centro televisivo Vaticano dal 2013 al 2015. In precedenza Don Dario ha ricoperto la carica di presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo e di direttore della rivista del cinematografo, che tra l'altro è la più antica rivista di cinema in Italia, fondata nel 1928. Papa Francesco, sempre nel marzo scorso, l'ha nominato assessore del di Castero per la comunicazione, per proseguire in particolare il progetto di riforma del sistema mediatico della Santa Sede. Per iniziare, Don Dario, volevo leggere una cosa che hai detto in un'intervista che hai rilasciato al SIR, al Servizio di Informazione Religiosa, e che mi sembra molto bella. Dici questa cosa, tutta colpa degli angeli, quegli angeli così lontani dal cascame devozionale, marcati dalla poesia di Dante e di Rilke. Sono come battiti di luce, meglio, luce e movimento, come il cinema. Gli angeli fanno la spola tra il cuore dell'uomo, segnato spesso da ferite e inquietudini, e l'orecchio di Dio, cui sussurrare implorazioni ed intercessioni. E quello sguardo di Wim Wenders, così profondo e lieve insieme, è rimasto radicato in me per anni. Per questo ho pensato a lui per un film con Papa Bergoglio. Il riferimento, naturalmente, era il film Il cielo sopra Berlino. Wenders ha mantenuto le promesse, questi angeli hanno abitato questo film? Sì, buonasera. Anzitutto buonasera, grazie. Dunque, questa risposta l'ho data perché mi hanno chiesto il motivo per cui ho chiamato Wenders. Quando Papa Francesco è stato eletto Papa, molti broadcaster internazionali volevano fare quelli che molti anni fa sono stati fatti, provate a pensare, Pastor Angelicus, con Pio XII, oppure una giornata col Papa, con Giovanni XXIII. C'è una sorta di documentario seguendo il Papa nella vita quotidiana. A ogni richiesta io andavo dal Papa e dicevo, ma c'è questa richiesta, lei cosa pensa? E tutte le volte che proponevo questa cosa il Papa mi diceva, non se ne parla. Non se ne parla perché io non faccio l'attore. E vabbè. Allora io tornavo con la coda tra le gambe e dovevo dire, guardate, non c'è trippa per i gatti. Però poi, siccome le domande erano molte, veramente molte, ho detto, ma probabilmente c'è un interesse reale di scorgere cosa c'è dietro quest'uomo, cioè la verità profonda di lui al di là dei momenti pubblici, dei gesti, dei viaggi, eccetera. Proviamo a pensare di farlo noi, vediamo se si convince. E subito ho pensato alla necessità di un grande regista, un regista importante, che fosse rispettoso però anche della restituzione della verità della vita del Papa. E in quel momento mi è venuto in mente appunto Wenders per gli angeli. Io ho visto molti film di Wenders, tutti devo dire, anche gli ultimi suoi documentari, Il sale della terra, che trovo splendido. E glielo ho chiesto, semplicemente. Lui ogni tanto scherza e dice, ma l'avrei chiesto dal 300, non è vero. Io l'ho chiesto solo, esclusivamente a lui. E lui mi ha detto di sì, dicendo io sono disponibile ma voglio essere libero. Certo. Quando uno è un grande maestro di cinema in genere, diciamo, si può investire in fiducia perché l'arte trasfigura, quindi certamente sarà una cosa positiva. Incassato il sì di Wenders dovevo incassare il sì del Papa, cosa un po' più complessa forse. Allora sono tornato da lui, facendo un po' la cronistoria di tutte le richieste, dicendo guardi, lei ha ragione, lei non vuole fare l'attore non protagonista. Io le chiedo di fare il protagonista non attore. E così ha accettato, certo, alla fine della quarta sessione di riprese, davanti a tutta la troupe, dice, beh, insomma, abbiamo fatto questa cosa, ma sappiate che lui, rivolgendosi a me, è pazzo. E quindi forse lui ha accolto questa mia proposta un po' folle che però mi pare sia davvero un film molto bello, insomma un film di Wenders, ecco. Non è un film biografico, no? È un percorso con Papa Francesco. Se ci spieghi brevemente la differenza anche stilistica della narrazione. Sì, dunque, abbiamo girato con il Papa in quattro momenti. È stata una lunga gestazione, perché siamo partiti con le prime riprese nel 2015, abbiamo concluso nell'agosto del 2017. Poi altra grande gestazione è il montaggio, ma insomma i grandi maestri sono così. E diciamo, io ho visto quello che usciva quando ho visto il film, il final cut, non sapevo cosa sarebbe successo, no? E devo dire che ciò che vedrete è un po' questo, se ho capito il film, non lo so, mi pare che sia un po' questo. C'è una prima tessitura che è fatta degli eventi, dei gesti, delle parole di Papa Francesco, quelli che noi conosciamo, quelli che abbiamo visto, quasi tutti, perché molte sono anche immagini che non abbiamo mai fatto uscire, per esempio quando il Papa è su un elicottero che scrive, cioè sono delle immagini che sono più di archivio intimo, che però abbiamo messo a disposizione. Questo, diciamo, è il dato di partenza. Su questo dato ci sono queste otto ore di intervista diretta al Papa, il film non dura otto ore, state tranquilli, dura 96 minuti, per dire che poi sono stati selezionati alcuni momenti. E questa intervista è stata fatta in questo modo. Siccome è importante che il Papa possa essere il Papa, è un tratto di Papa Francesco e la prossimità, cioè vuole parlare con te, non con le folle, con ciascuno di noi. Allora la scelta di Wendersi è stata quella di girare il film in questo modo. Vi racconto questo, la prima seduta, diciamo, la prima intervista, accompagno il Papa, si incontrano, c'è molta emozione, poi l'emozione lascia spazio alla familiarità e dico al Papa, bene, lei si deve sedere lì e lui mi guarda e dice, ma dov'è la seconda sedia? No, quella di Wendersi, ma non c'è la seconda sedia, no? E dico, guardi, lei non deve vedere Wendersi, perché lei deve guardare in questo schermo una specie di gobbo, si chiama Interroton, una specie di gobbo, diciamo una piccola lastra di vetro, tanto per intendersi, e lei vedrà proprio davanti a sé la faccia di Wendersi. Quindi lei parlerà direttamente con Wendersi, ma anche se Wendersi non è qui, perché è in un'altra sala, e Wendersi, con lo stesso fogliettino di vetro, insomma, avrebbe visto il Papa di fronte a sé. Quindi, diciamo, voi vedrete il Papa che attraverso gli occhi di Wendersi guarda i vostri occhi, no? Quindi in questo modo parla direttamente con ciascuno che è presente in sala, con ogni spettatore. E in queste otto ore, che cosa ha fatto? Ha ritessuto ed è andato in profondità rispetto a quei temi che lui molto spesso affronta durante i viaggi. Potremmo dire, è un po' la scelta ricorriana, spiegare di più per comprendere meglio, no? Perché molte volte alcune parole del Papa sono in un contesto, sono in un viaggio, si perde la profondità, eccetera. Quindi il Papa ritorna e ridice in profondità, quindi quasi come se il Papa ritessesse un po' i suoi cinque anni di pontificato. Dentro questo percorso poi c'è un elemento che Wendersi ha voluto e che è il fatto di San Francesco. Perché? Perché quando Papa Francesco ha spiegato il motivo del nome, lì si è capito un po' quali erano i pilastri del suo insegnamento. Pace, dialogo e povertà. E riforma della Chiesa. Quindi diciamo, quel nome porta dentro di sé tutta la densità del pontificato di Papa Francesco. E quindi troverete anche delle immagini in bianco e nero, girate con una camera a mano, a pellicola, no? Non vi dico trovare una camera a mano oggi, quali sono i problemi, non esistono quasi più. E anche lì è molto interessante per dire chi è Wendersi. Cioè, lui ha fatto prima una settimana al convento di Assisi, ma senza girare nulla. Io pensavo andasse a girare, ho detto, ma se vuoi ti faccio chiudere la tomba di San Francesco, no? Cioè, io devo respirare il clima, la spiritualità. Quindi ha fatto una settimana lì, con i franzi. E dopo un mese è tornato nei boschi Assisani, ha girato queste scene. Chi fa San Francesco è Ignazio Oliva, un attore che probabilmente qualcuno di voi ha visto nel film The Young Pop, nella serie The Young Pop. E, insomma, questo è un po' quello che emerge, ecco. E quindi ci sono anche tre stili narrativi nello stesso film? Sì, tutti fusi con quella capacità di Wendersi, di creare una grande unitarietà, una grande armonia, insomma. E come si definirebbe? Non un film biografico, nemmeno un documentario, ma nemmeno una finzione? No, non so cosa sia. Può essere, ma io direi proprio un film con Papa Francesco, è un film, è un film, insomma. Cioè, tu sei abituato a vederlo Papa Francesco spesso e la sua capacità di penetrare con gli occhi l'interlocutore è una cosa che arriva a chiunque. E questo mezzo ha semplicemente amplificato questa sua capacità. Sì, a me pare proprio di sì. Io ho fatto la prova, abbiamo fatto un'anteprima a Roma e devo dire che ero un po' in fondo io. È stato molto interessante perché alla fine l'80% di persone aveva qualche lacrimuccia. perché man mano si va avanti, diciamo, ha una grande forza, un grande impatto questo film per come è girato, naturalmente poi per le cose che dice, le cose che si vedono. Quindi a me sembra che si possa appunto definire un film, un film poi corale perché, guardate, era molto bella l'esperienza della truppa, era una truppa internazionale, c'erano francesi, italiani, tedeschi, un po' di tutto. E io ho detto, quando l'ho vista, dico, Dio mio, come faremo a capirci? Eh, però ci si capiva perché era talmente tanta la passione per questo progetto che alla fine ci siamo capiti. E corale anche perché, per esempio, ci saranno, c'è una canzone soprattutto scritta apposta per il film di Patti Smith che ha voluto essere presente anche lei. Quindi, diciamo, ci sono tanti elementi, no, che concorrono a quest'opera che a me pare bella, insomma. Wenders è un tedesco, tra l'altro c'è un percorso personale anche molto interessante perché nasce cattolico, si allontana dalla chiesa, ritorna alla fede però da protestante. Questa cosa qui, secondo te, può aver fatto la differenza anche nell'approccio? protestante è comunque un cristiano, quindi diciamo, questo non... ma forse la differenza la fa perché, diciamo, ha meno... sì, ha meno timore reverenziale, no, perché provate a immaginare, adesso non faccio nomi, ma un regista, diciamo, troppo cattolico forse avrebbe avuto qualche sbavatura di reverenzialità, invece qui no, c'è... mi pare proprio una cosa molto... mi sembra molto pulita, ecco, non so come dire, non mi pare che... laica. Beh, laica per forza, certo, che... insomma, sono stati quattro momenti in cui si è anche giocato molto, eh? Per esempio vi racconto l'ultima ripresa del... eravamo in agosto del 2017, sapete Roma... no, Roma, tutte le città, beh, voi in agosto sarete pieni di turisti, però Roma si svuota perché verranno tutti qui al mare, non lo so, ecco, però Roma si svuota un po', il Vaticano c'è meno gente che lavora, insomma... ed era un pomeriggio, il Papa, insomma, per non dar fastidio, sapete, ha l'autismo, eh? Cioè, guarda, Dario, vieni a prendermi tu, va bene, io vado con la mia pandina, no? La rinfresco il più possibile, eh? La pulita è sempre pulita, la uso poco perché viaggio con lo scooter io, quindi... e va bene, arriviamo ai giardini, e lui naturalmente saluta tutti, i fonici, come sempre, no? Ogni volta salutava tutti, ogni volta regalava una corona a tutti, non so se diranno il rosario, ma oramai avranno la raccolta delle corone. Eh, detto questo, eh, si siede, insomma, iniziamo il ciacca, allora questa ragazza, ciacca, si parte, lecce di marfi, cosa succede? Inizia il vento, con i boom e questi microfoni, è un disastro, no? E poi il vento, lo sapete, il Papa è sobrio nel vestirsi, ma c'ha la mantellina, quella specie di cosa, così, no? E il vento gliela rotola e diventa quasi una sciarpa. Vabbè, finisce questo primo blocco di ripresi, io mi avvicino, dico, guardi, accidenti, il vento ha rovinato un po', insomma, questa, la mantellina, si è, si è. Lui mi guarda e dice, Dario, ma la vita è questa, la vita è dinamica, non siamo statue da museo, hai capito? Secondo, ciacca, no, la ragazza, ciacca, il vento è finito, ma chi è iniziato? I pappagallini. Noi siamo invasi da pappagallini in Vaticano, queste cocorite, lì non so come siano. E allora a quel punto dico, mo' le spiego che ho imparato lezione, finisce la seconda ripresa, mi avvicino e dico, Padre Santo, è la vita. Ecco, è un tedesco che racconta un latino-americano, questo sguardo anche così particolare, tra l'altro Bergoglio ha nella sua identità latino-americana un punto di forza comunicativo, ma a volte anche un fardello che crea problemi da un punto di vista di comunicazione per chi si ferma a delle categorie senza voler capire il suo messaggio in profondità. In questo caso ci sono stati problemi di approccio culturale tra i due, oppure no? No, anche perché Wenders è un eclettico, diciamo, sia un tedesco, ma non solo tedesco, perché è un po' francese, parla molto bene lo spagnolo. Per esempio, Wenders e il Papa parlavano spagnolo. Quindi diciamo, c'è questa sorta di, qualcuno parla oggi di meticciato, no? Ecco, è un po' questa sorta di meticciato culturale che permette, insomma, di andare al di là degli stereotipi tipici delle identità nazionali. Quindi non mi pare si sia creato qualche problema. E invece come risponderesti all'accusa della geografia bergogliana, nel senso un film che esalta eccessivamente il Papa e non lo racconta in tutta la sua complessità, anche nel suo limite e nella sua, anche, non dico incapacità, però a volte nella fatica che fa anche di interlocuire o comunque di comunicare con certi mondi che lo guardano un po' di traverso. Beh, guardate, i limiti del Papa lui li ha ben presenti ed è il primo che li denuncia. quindi, diciamo, non mi pare ci siano, diciamo, aspetti problematici. Rispetto alla geografia, certo, noi siamo passati dall'est-ovest di Giovanni Paolo II al nord-sud del mondo, no? Quindi, diciamo, è chiaro che cambia la geografia, ma perché cambia la provenienza di un pontificato. Poi questo è il primo Papa dopo Giovanni Paolo II, il Benedetto XVI sono entrambi presenti al Vaticano II, che invece lui è figlio del Vaticano II, no? quindi anche con tutto l'entusiasmo di vedere una chiesa che sa dialogare con il mondo, che sa interagire con il mondo. E quindi credo che, poi, sapete, insomma, è partito proprio in America questo film, e quindi è uscito in America, in Canada, in Gran Bretagna, in Francia, in Spagna, in Svizzera, in Germania, adesso in Italia e poi proseguirà per l'America Latina, quindi, insomma. Che effetto ha fatto finora questa pellicola? Beh, diciamo, negli altri stati non lo so, se non solamente vedendo risultati, mi sembra che siano risultati molto buoni. A me, chiaramente, tutte le volte che lo vedo, diciamo, prende, perché ogni volta si sottolinea, si coglie un aspetto, una parola, un atteggiamento, un volto. Per esempio, secondo me, però questo è per me, i primi piani del Papa, finali, che poi sono i primi piani in cui parla dell'umorismo, di Thomas More, eccetera, sono storie, cioè lasciano, diciamo, un ricordo molto bello, anche una prospettiva, insomma, che la vita è già complessa, sono tanti problemi. Allora pregare con la preghiera di Thomas More, perché il Signore ci conceda l'umorismo è importante, poter sorridere ogni tanto, no? Perché se no ci deprimiamo e la depressione non porta da nessuna parte, è meglio sorridere un po'. Mentre parlare, mi viene in mente che molto del materiale è del centro televisivo vaticano, quindi in realtà un po' del film è anche il tuo, si può dire questa cosa? Sì, si può dire? Sì, in qualche modo sì, anche se poi il film è fatto dalle interviste di Vendors e soprattutto dal montaggio di Vendors. Ecco, come ha lavorato il montaggio rispetto alle immagini originali di archivio del CTV? Lo vedrete, perché è difficile dire come ha lavorato il montaggio, perché, diciamo, è quella capacità di Vendors, di tessere un'unitarietà, secondo me, veramente straordinaria. Anche perché noi giriamo le immagini del Papa, ma con uno stile, diciamo, documentale, no? Anche quando il Papa va nel viaggio, eccetera, noi siamo incaricati di restituire ciò che avviene per i broadcast internazionali, cioè quindi sono più, diciamo, da news, che possono essere usati un po' per le news. Però è anche vero che quando giriamo, giriamo molto di più di quello che distribuiamo e anche con una seconda camera che coglie alcuni aspetti che in un telegiornale non interessano, che però in questo caso sono diventati molto utili, molto interessanti, no? Per cui, diciamo, c'è davvero tanto materiale, tante immagini, immagini anche molto, insomma, per esempio vedrete una scena che invece abbiamo girato per le news, quando il Papa è negli Stati Uniti e lì sentirete proprio anche il riso in studio di una televisione americana che ride mentre dice il Papa è con una macchina di Mr. Bean, perché è una cinquecentina, voi provate a immaginare, siamo andati negli Stati Uniti e c'erano queste macchinoni enormi della Secret Security, che erano veramente delle cose, io non so grandi quanto fossero, una cosa bicidiale. Uno stuolo di macchine prima, uno stuolo di macchine dopo e poi boom, in mezzo, questa, naturalmente io non ho visto questa scena quando ero lì con il Papa, ma l'ho vista dopo quando ho visto il gelato e fa un po' sorridere, sì effettivamente, no? Ecco, però anche tutto questo diventa l'occasione per riflettere su un'economia di mercato, sulla sobrietà, sull'essenzialità, no? E un'ultima domanda, anche perché siamo proprio curiosi di vederlo questo film, cosa ti aspetti che crei nella Chiesa Cattolica, ma soprattutto nell'opinione pubblica mondiale? A cosa dovrebbe servire questo film? Ma intanto è un film, no? È un film si gode, no? Non è che si fa un film perché serve, un film si gode. Poi certo, io credo che può aiutare a entrare in profondità in quelli che sono alcuni elementi di questo pontificato, in profondità, e poi se a qualcuno serve io sono molto contento, insomma, no? Perché credo che abbiamo un Papa che fa, diciamo, lui ha detto subito il giorno dopo le elezioni i giornalisti vorrei una Chiesa povera per i poveri, no? Che vuol dire una Chiesa povera? Una Chiesa disponibile, una Chiesa che non è, diciamo, attaccata le proprie posizioni, perché un povero chiede, un povero ascolta, un povero si fida. Quindi questa idea di una Chiesa povera per i poveri credo che possa aiutarci a dire, beh, facciamo di questo film un'occasione per prendere sul serio un momento molto bello di Chiesa, con tutte le complessità, i problemi, le contraddizioni. Però a me pare che siamo dentro un percorso di grande conversione, vedrete soprattutto c'è un'immagine anche un po' forte che ha lasciato Wenders, quando il Papa fa il discorso di Natale alla Curia Romana. Poi Wenders non ha tagliato le inquadrature dei singoli, molto interessanti. Però, appunto, credo che sia un grande racconto dove tutti siamo coinvolti, credenti e non credenti, perché i temi che tocca la vita è la vita di tutti. I valori sono valori per tutti. Poi, per qualcuno un valore ha un riferimento cristiano, per un altro ha un valore laico, però, diciamo, la tutela dell'ambiente, il legame tra ambiente e uomo non è una cosa cattolica, è una cosa importante per la vita di tutti. Poi uno lo può rileggere a partire dalla propria esperienza credente, uno lo può leggere a partire dalla propria esperienza anche non credente. Non è che siamo necessariamente nemici. Possiamo arrivare allo stesso obiettivo da strade diverse. Anche perché, forse poi basta perché almeno vedete un film, visto che avete pure pagato un biglietto per vedere la chiesa delle origini non è dall'unità alla molteplicità. Noi pensiamo che c'è sempre l'unità e poi c'è la molteplicità che deriva dall'unità. No, no, no. La chiesa delle origini, siccome è fondata dai vari apostoli, e questo è importante che la chiesa siriaca, la chiesa coppa, tutti si rifacevano a un apostolo fondatore, per dire la pienezza dell'essere chiesa, nasce la chiesa come esperienza di differenza, non di unità che poi si differenzia. E questo è molto importante perché la chiesa è la grande chiesa dove c'è tutto. Ecco perché è cattolica. E questo credo che sia uno degli insegnamenti grandi di Papa Francesco. L'ultimissima domanda per davvero, perché è troppo bello chiacchierare. Rispetto a Wim Wenders, l'hai più risentito dopo questo lavoro? E come no, come no. Ecco, e come sta? Oramai è diventato, io sono il suo stalker e lui è uno stalker mio, ma insomma, no, ma lui è molto contento, sempre, è molto generoso quando fa, è venuto a Roma per il lancio del film, sempre molto generoso con i giornalisti, l'incontro, eccetera. Credo che, insomma, sia molto molto felice. C'è una cosa che gli manca, che mi chiede continuamente, ma che porterà come desiderio nella tomba, come tutti noi, e cioè lui vorrebbe che il Papa vedesse questo film. E il Papa non lo vede perché non vede il film, anche perché lui dice, ma l'hai visto tu Dario, va bene, basta. Quindi, gli occhi del Papa, allora. Grazie a Don Dario. Grazie a voi, buona serata. Grazie di cuore.